Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Mi auguro che la vostra giornata, la vostra settimana possa procedere bene anche se in questo momento difficile lato Juve perché non dobbiamo prenderci in giro, non dobbiamo metterci qua a dirci che le cose vanno tutto bene potevamo dirlo fino a qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa, fino a qualche ora fa ora invece bisogna prendere coscienza perché qualcosa si è rotto nella Juve se è una rottura insanabile o se è una rottura che già da sabato contro l'Ellas Verona verrà parzialmente ricucita io questo non lo so però è preoccupante, è preoccupante vedere una squadra così altalenante dal punto di vista motivazionale secondo me, emotivo perché io credo che questo sia il grande punto della Juve di questa stagione voglio andare con calma e parto dicendovi che abbiamo fatto una clip che racchiude il video che avevamo fatto insieme io, Davom e il critico calcistico prima ancora di Juve-Inter, non Inter-Juve, Juve-Inter sto parlando quindi dell'andata di Serie A dove andavamo a rispondere a una domanda che avevo posto ai ragazzi e cioè, cos'è cambiato dall'anno scorso a quest'anno per la Juventus? ma soprattutto, cos'è cambiato a livello di campo? questa era la domanda vi lascio la clip con una breve rielaborazione di alcune cose e tra cui la mia risposta, eccola qua d'accordo, siamo lì due punti dall'Inter si deve giocare la Juventus sta raccogliendo dei risultati ma la domanda da farsi secondo me è una e una sola ma che cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? è una domanda talmente banale ma la risposta per me è folle ecco però aspetta, attenzione ci sta perché ho già capito le risposte e sono tra quelle che prendo in considerazione assolutamente perché volevo capire proprio il livello di campo che era differente l'anno scorso la Juve dopo il filotto è crollata perché non riusciva a reggere la pressione del fattore extracampo o perché nel filotto aveva overperformato e non era più ripetibile? bravissimo, bravissimo e la risposta che ti darebbe un match analista sicuramente che la tendenza fa tantissimo infatti guarda, la mia risposta alla domanda da cui è nato il video è che a livello di campo, fino adesso se devo prendere in esempio le partite che hanno portato a Juve e Inter e le partite che hanno portato a Napoli e Juve non c'è niente di diverso ci sono delle consapevolezze in più che in questo momento non vengono sfruttate io vedo questo cioè dal punto di vista di campo il filotto che mi ha portato l'anno scorso quella partita il filotto che mi ha portato questo non mi dice niente però a differenza dell'anno scorso non essendoci la penalizzazione la Juve ha la possibilità di cercare di dare di continuità a questa cosa che però per come la leggo io è un overperforming costante della difesa che prima o poi sarà destinata anche banalmente l'errore del giocatore come è stato Bremer con la Lazio che la passa a Luis Alberto invece a Carlo Catelli o a Cambiaso fa l'errore e prendi gol perché non dimentichiamoci che o Gatti che si fa autogol o Scesni che fa la papera cioè che possono essere errori individuali o di reparto cioè non salgono i difensori tengono in gioco sono mille variabili quindi io in questo momento vedo veramente una concentrazione elevatissima nei giocatori della Juve e non so se riuscirà a durare per altre quante sono 26 partite diciamo che ascoltare queste cose dopo invece Juventus-Udinese con lo studio anche vecchio diciamoci la verità fa un po' impressione perché si è andata esattamente a realizzare questa cosa qui io ho praticamente sempre detto che secondo me la Juventus stava raccogliendo anche di più di quello che poteva raggiungere però abbiamo anche sempre specificato che non era tanto un discorso legato a la fiducia che si poteva riporre nei giocatori perché io sono convinto che la Juventus abbia comunque dei giocatori che stanno dando ancora poco rispetto a quello che è il potenziale che hanno dentro di loro rispetto a quello che possono fare è ovvio che se l'idea di Allegri che è un'idea molto pragmatica va a cercare di massimizzare un certo aspetto che è quella della fase difensiva della fase di non possesso del recupero palla e va a sacrificare tutta quella che è l'impostazione lo sviluppo dell'azione e magari anche quella di finalizzazione perché la Juventus ha tantissimi expected goal in realtà è una squadra che crea quasi quanto l'Inter anche se vogliamo nella totalità però poi andiamo a vedere è l'expected goal che la Juventus realizza da calcio piazzato è qualcosa di fuori dal comune quindi è molto difficile che la Juventus vada a segnare su azione su un'azione costruita su un'azione manovrata poi accade l'abbiamo visto fare anche a Firenze il gol di Miretti una bella azione una bella Juventus che va a distendersi però è raro è molto più probabile vedere una Juventus che va a lottare che va a fare gol su un mischione e quindi dal punto di vista tattico secondo me era cambiato poco se non niente è per quello che a un certo punto fermo Davom perché lui stava già partendo col discorso della motivazione e credo che quella sia stata la grande differenza rispetto all'anno scorso e per parlare di questa cosa dobbiamo parlare di quello che per me è il più grande merito di Massimiliano Allegri nel suo secondo ciclo perché l'anno scorso dato che è da settembre del 2022 da quella settimana tra Maccabi e Monza che vi dico che per me Allegri non è più l'allenatore giusto per questa Juve avevo dei dubbi anche prima lo ricorderete vi dicevo ma davvero andiamo a prendere un gestore come Allegri poi io ero contento perché Allegri è un allenatore che aveva vinto tanto e speravo potesse ridare un po' di mentalità vincente a questa Juve e da questo punto di vista Allegri mi ha deluso tanto tantissimo in questo suo secondo ciclo ma c'era sempre stata una cosa che mi faceva dire è giusto l'esonero di Allegri e cioè quello di aver completamente perso il gruppo Allegri tra Maccabi e Monza perde completamente il gruppo e lei ricordate quelle dichiarazioni di sconcerti uscite sul giornale in cui si parla della Juve virtuale che non era quella che aveva Allegri e allora se la costruisci in un modo Allegri dice se la costruisci in un modo e poi non ce l'hai a disposizione secondo me l'anno scorso davvero alcuni componenti della Rosa hanno giocato contro l'allenatore davvero c'è stato un golpe e non è un caso che questa estate la Juve va a salutare Bonucci a salutare Di Maria a salutare Paredes a salutare diversi giocatori che secondo me avevano un'influenza abbastanza potente nello spogliatoio per palmares per importanza per esperienza quello che volete e sono andati a fare un vero e proprio colpo di stato interno una rivoluzione interna alla Juventus e non è un caso che si sia fatto fuoco e fiamme per salutarli questi giocatori e allora vi dico la più grande il più grande merito la cosa più positiva dal punto di vista sportivo di Allegri nell'Allegri 2.0 è appunto aver ricreato il gruppo essere riuscito a ricreare il gruppo perché questa per me è una cosa che parte dall'allenatore sempre il contesto che si crea parte sempre dall'allenatore poi c'è un contesto sportivo di campo di quello che vedi effettivamente in campo che è la fotocopia dei tre anni di Allegri preciso identico se vogliamo estremizzando anche dell'Allegri 1.0 ma c'erano dei calciatori diversi e quindi veniva fuori un output differente nei tre anni del ritorno di Allegri invece abbiamo sempre visto una Juve molto molto scheletrica dal punto di vista offensivo e poi arriviamo anche a parlare dei dati però dal punto di vista della gestione che è il punto forte di Allegri quest'anno secondo me c'è stata la cosa più bella di questo ciclo di Allegri ed è questo che mi fa arrabbiare perché dopo che si entra in questo periodo difficile non posso sentire l'allenatore che va a rimarcare la differenza tra quelli che sono davanti e di noi perché il gruppo poi come reagisce a questa roba esattamente quello che aveva fatto distruggere il gruppo io non so cosa si sono detti poi successivamente non lo so tra Empoli Inter Udinese qual è stato il discorso di Allegri a squadra non lo posso sapere però mi viene anche noia devo dirvi la verità ad andare ad aprire e leggere che Galeone va a parlare alla gazzetta dello sport tutte le volte che la Juventus entra in un periodo negativo e di cosa parla Galeone ogni volta che la Juventus entra in un periodo negativo dei giocatori che mancano ad Allegri e di quello che servirebbe ad Allegri e allora poi dopo un po' passa una passa due passa tre alla quarta uno per forza inizia a pensare male entra in malafede che è esattamente la stessa cosa che è accaduta l'anno scorso solo che l'anno scorso l'ha parlato effettivamente l'allenatore ed era ancora più grave quindi io vi dico la verità se la cosa più positiva che è stata fatta che è quella del gruppo poi viene a distruggersi viene a mancare questa roba qua è un problema perché la mia lettura è la seguente e per forza di cose va a comprendere anche i giocatori perché l'analisi non può fermarsi al solo allenatore non sarebbe completa secondo me non sarebbe giusta poi l'allenatore è sempre quello che ha la maggior parte di responsabilità su una singola stagione figuriamoci su tre e se per tre stagioni arrivi sempre alla fine alla stessa conclusione difficilmente poi ti puoi salvare anche per una quarta non sarà mai per meriti sportivi perché la Juve non corre non gioca non partecipa soltanto per le qualificazioni e le coppe non è mai stato così e mai dovrà essere così per una squadra come la Juve e Ventus deve sempre partire per arrivare al massimo e secondo me quest'anno i calciatori ce l'hanno fatto capire che non erano d'accordo con quella che era la linea comunicativa di società e allenatore perché anche Giuntoli anche Elkan hanno sempre detto obiettivo entrare in Champions tanti giocatori invece ci hanno detto che no per loro obiettivo erano scudetto e guarda caso appena l'Inter si allontana un po' per quel passo falso con l'Empoli scoppia tutto scoppia tutto e perdi anche in casa con l'Udinese quarta ultima che tipo aveva vinto una o due partite prima di questa non è una coincidenza ragazzi non è un caso non è frutto del destino assolutamente no e vi dico che il fallo di Milik post-Inter e post-Udinese nella mia testa assume dei contorni ancora diversi rispetto a quelli che erano in live perché Milik che fa quel fallo lì a me viene da dire che è la perfetta descrizione di quello che era il mood dei calciatori in questa stagione su ogni singolo pallone lottare dare il 101% non il 100 a maggior ragione se sei uno come Milik che non gioca mai è un'opportunità perché è sciocco fare quell'intervento a centrocampo è folle eppure se devi lottare con grinta su ogni singolo pallone perché è quella la cosa a cui ti deve grappare perché in campo la differenza non c'è stata allora la leggo in un altro modo però vi devo dire come vi dicevo prima che anche i calciatori un po' mi deludono e parleremo anche di questa tematica legata relativa a Chiesa che adesso sta venendo fuori ma ne parliamo domani perché voglio parlarvene domani però è ovvio che se comunque anche all'interno di un contesto scarno dal punto di vista tattico i punti li fai perché l'approcci in un certo modo se poi non raggiungi l'obiettivo che ti sei prefissato o che stavi sognando non è che devi mollare mentalmente perché secondo me ci sono stati tanti errori di scelte di motivazione di scelte di lettura di formazione da parte di Allegri e ci sono stati nelle ultime tre partite la gestione di Ildis secondo me soprattutto è stato un errore clamoroso da parte di Allegri però poi in campo c'erano i calciatori e se i calciatori prima vincevano le partite con la motivazione e adesso perda la partita perché non c'è più quella motivazione è una cosa psicologica è una cosa mentale si era anche overperformato e quindi quando molli qualcosa anche a livello inconscio da quel punto di vista fai più fatica però significa che non è tutta colpa dell'allenatore per me la stragrande maggioranza sì però è impossibile poi tenere fuori i calciatori da questa equazione intendiamoci bisogna dirsi le cose come stanno ma non per creare un alibi ed Allegri attenzione ma in previsione di un futuro allenatore che potrà esserci l'anno prossimo e che si ritroverà dei giocatori che magari sono abituati a ragionare che do tutto finché posso e poi a un certo punto posso anche mollare no alla Juventus questa roba non funziona che sia Allegri allenatore che sia un altro perché per me Allegri è da cambiare e non lo è da oggi lo ripeto è da settembre 2022 che Allegri è da cambiare e anche quando ero lotta per lo scuento vi dicevo che non avrei rinnovato Allegri figuriamoci se lo rinnoverei adesso dopo questo finale di stagione ma soprattutto voglio che sia chiara una cosa perché se fino a dieci giorni fa potevamo parlare di grande stagione della Juventus ottima stagione della Juventus meravigliosa stagione della Juventus dopo queste tre partite ragazzi bisogna cambiare bisogna cambiare perché non è una cosa eterna a maggior ragione se tiriamo fuori una statistica che è preoccupante perché la Juventus adesso dopo 24 giornate ha 53 punti sapete quanti punti aveva la Juventus dell'anno scorso dopo 24 giornate e aveva 50 50 soltanto tre punti in più in questo momento rispetto alla stagione dell'anno scorso dove arriviamo terzi e quarti a pari punti con l'Inter brutta storia brutta storia ma soprattutto voglio fare un confronto generale su quello che è stato tutto il percorso il ciclo della Ligribis alla 24esima giornata di campionato 21-22 45 punti 36 gol fatti 21 subiti e 15 di differenza reti 22-23 50 punti appunto 40 gol fatti 19 subiti 21 di differenza reti 23-24 53 punti 36 gol fatti 15 subiti e 21 di differenza reti se dal punto di vista dei gol subiti quest'anno si è andati in netto miglioramento perché si parte dai 21 e si arriva ai 15 di due stagioni fa dal punto di vista offensivo siamo sempre lì siamo sempre fermi lì e può essere sempre un discorso dei giocatori per me no per me banalmente è un discorso che alla fase difensiva si presta sempre particolare attenzione e cura alla fase offensiva di sviluppo di finalizzazione e si lascia sempre molto al caso poi ribadisco i calciatori hanno delle responsabilità assolutamente però a un certo punto bisogna anche prendere in considerazione farsi un esame di coscienza e dire ma non è che quello che ho in testa quello che penso quello che sto provando non funziona più o non funziona con questi calciatori che ho a disposizione e quindi serve fare qualcosa di diverso perché poi secondo me l'autoanalisi è sempre molto importante perché appunto in queste tre partite si è buttata la stagione però stiamo facendo un remake infinito della stessa annata mediocre e questa volta con un solo impegno a settimana perché voi potete dirmi finché volete che non avere le coppe non è un vantaggio per la Juve non mi interessa è una vostra posizione è un vostro pensiero una vostra opinione va benissimo però non ditemi che non è vero che in sette giorni sia più comodo preparare una sola partita piuttosto che due in tre giorni quindi vorrei capire da Inter Juventus che si può perdere contro quest'Inter in trasferta si può perdere si può perdere a Juventus Udinese passati otto giorni in mezzo su che cosa diavolo si è lavorato su che cosa sul fatto che siamo stati sfortunati negli episodi e che saremo più fortunati negli episodi nella partita dopo allora non si è lavorato allora non si è fatto niente e quindi per forza di cose un'annata senza coppe con un'intera settimana a disposizione deve trasformarsi in qualcosa di diverso e non può essere sempre il punto di vista mentale non può sempre essere l'abnegazione non può essere sempre il sacrificio non possono sempre essere queste cose perché nel calcio c'è anche tanto altro e lo vediamo sempre e lo vediamo sempre perché se per tre anni di fila arrivi a farmi tre volte la stessa stagione facendo il mercato non il mercato del primo anno il mercato con i giocatori di esperienza al secondo perché cavolo mancano quelli di personalità di esperienza servono quelli che hanno giocato determinate partite e prendi di Maria Pogba Paredes e se poi però quelli sono bolliti e allora servono i giovani però poi i giovani non hanno esperienza alla fine della fiera si finisce sempre uguale si fanno pochi gol se ne subiscono un numero indefinito quest'anno pochi c'è da dirlo perché quest'anno pochi ma si è migliorato solo dal punto di vista difensivo è un po' poco in tre anni è un po' poco per la Juventus allora poi bisogna anche essere onesti lucidi nelle analisi bisogna soprattutto essere onesti nelle analisi perché io leggo ancora della gente che vorrebbe rinnovare Allegri d'accordo benissimo però se rinnovi Allegri non puoi andare avanti con questi presupposti devi chiedere e pretendere alla Juventus che faccia un mercato da 250 milioni di euro e che metta a disposizione 250 milioni di euro ad Allegri per avere la squadra più forte dell'Inter senza cedere nessuno perché i giocatori forti te li devi tenere aggiungendoli i giocatori però a quel punto mi viene da dire allora con 250 milioni di euro magari anche un altro allenatore potrebbe raggiungere dei risultati migliori rispetto a quelli di Allegri quindi ne vale la pena perché fare un altro anno con Allegri con quella che è la linea guida della Juventus dichiarata cioè una squadra autosostenibile ragazzi potete volerli bene finché volete ma è autodistruzione e non ve lo dico io ve lo dico nei numeri perché arrivati alla ventiquattresima giornata di Serie A dà la narrazione giusta in quel momento perché la Juventus non stava sbagliando mai in tre partite dove raccogli un punto tra cui Udinese e Empoli in casa arrivi a ricalcare esattamente le precedenti due stagioni che dal punto di vista sportivo non hanno niente da salvare e se l'unica cosa veramente grande era salvare quest'anno che era il gruppo inizia a sfaldarsi allora diventa un bel bel grande problema prima Grazie.